Grande spettacolo a Casinorama Resort, Luca Carboni live il 27 aprile Con il Sputnik Tour e le sue bellissime canzoni Per biglietti e informazioni visitate ticketmaster.ca o presso i box office di Casinorama Resort Luca Carboni in concerto a Casinorama Resort il 27 aprile Un'altra esclusiva di C-Radio Grazie per la visione